Qua siamo nel cuore, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Sì? Sì. Ma avevamo sentito che qui c'era il pino mugo. Muto. Mudo. Mugo o muto? In montagna è sempre così, devi essere sempre preparato perché il tempo cambia velocemente. Prima hai visto che c'era il sole, adesso arriva il franoletto, fa freddo. Siamo sicuri che siamo in montagna. Perché? Ma vedo il mare qua. Sì, infatti adesso andiamo al rifugio e prendiamo un bello spagato lo scoglio. Dai. Allora qua. c'è un futuro sai dove sono i freddi a la 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 Grazie a tutti.